Salve a tutti, bentornati alla seconda conversazione sulle crociate, è giusto fare adesso un breve quadro cronologico delle crociate, un fenomeno che interessa lo storico per circa tre secoli e mezzo. La prima crociata dal 1096 al 1102 fu indetta da Urbano II, appunto nel 1096, finì nel 1102 con la presa di Gerusalemme. Fu una crociata positiva dal punto di vista militare, venne fondato il Regno Latino, il primo Regno Latino di Oriente, è la crociata, dobbiamo dire poche cose, però ricordiamo alcuni personaggi importanti, la crociata di Goffredo di Buglione, un uomo molto amato, Dante Alighieri lo mette tra gli spiriti guerrieri nel canto diciottesimo del Paradiso e Torquato Tasso ne farà l'eroe della Gerusalemme liberata. La seconda crociata durò dal 1146 al 1148, finì assai male per i cristiani, le armate cristiane furono sconfitte a Damasco, di fronte alla porta di Damasco in Siria, ma vide la predicazione di un santo, come dicevamo nella precedente conversazione, era San Bernardo di Chiaravalle, un monaco benedettino, fu forse uno dei più grandi riformatori dell'ordine cistercense, che predicò la crociata prima in Francia, poi alla corte imperiale, ovvero alla corte del Sacro Romano Impero. La terza crociata andò dal 1187 al 1193 e vide come grande antagonista dei cristiani il Saladino, già citato nella precedente conversazione, che riconquistò Gerusalemme, in questa crociata si distinse Riccardo I d'Inghilterra, che la storia chiama e ha sempre chiamato Riccardo Cuor di Leone per il suo grande coraggio. In questa crociata la terza, a questa crociata partecipò anche Federico il Barbarossa ed è interessante, anche forse è un po' commovente ricordare per chi riesce ancora a commuoversi di queste cose, che gli era scomunicato, fu scomunicato nel 1160 dal Papa per la sua guerra contro i comuni, dal Papa Alessandro III contro i comuni d'Italia e nonostante da scomunicato non potesse guidare l'esercito imperiale partecipò come un soldato semplice e da soldato semplice morì affogando nel 1190 in un mare più o meno dell'attuale Turchia, in un lago, in fiume scusate. La quarta crociata fu la più in fausta, vi fu il disonore infatti per i cristiani di Occidente della distruzione di Bisanzio. Questa è una colpa collettiva che i cristiani cattolici si portano dietro ed è giusto che la espino, perché passando per Bisanzio, cioè laddove abitavano a Costantinopoli i bizantini, cioè i fratelli cristiani di Oriente, nel 1204 la saccheggiarono e uccisero uomini, donne e bambini. Questo ci avvenne 150 anni dopo la data ufficiale dello scisma con Bisanzio che era del 1054 ed è una delle cose che a ragione i cristiani di Oriente ci perdonano di meno. La quinta crociata fu dal 1215 al 1221 e quella a cui partecipò San Francesco. La sesta crociata dal 1223 al 1229 la fece Federico II. Anche lui imperatore del Sacro Romano Impero, un uomo straordinario chiamato Stupormundi dai suoi amanti e la bestia dell'Apocalissia dai suoi odiatori, anche lui fu un imperatore scomunicato ben due volte, la prima volta da Gregorio IX che era il papa che canonizzò Francesco e Domenico proprio per motivo della crociata, la scomunica. Federico II infatti fece un'intesa con i turchi, conquistò senza colpoferire Gerusalemme, Betlemme e Nazareth, quindi non fu una crociata combattuta, non fece morti, ma la scomunica gli arrivò perché in qualche maniera Federico II si comportò, oggi si direbbe in maniera molto relativista, cioè ritenne non tanto come dire illecito combattere la battaglia armata, quanto illecito porre delle differenze che in realtà ci sono tra cristianesimo e Islam. La settima crociata, che fu del 1245, vide un'altra partecipazione di un santo, un re santo, San Luigi IX di Francia, che fu imprigionato e poi liberato dietro il pagamento di un riscatto, anche se poi dopo la liberazione non volle tornare in Francia ma rimanere lì ad aiutare i crociati, sicuramente lo dicono anche gli storici laici, un re monarca che fece la crociata per autentica devozione religiosa e senza alcuna volontà di arricchirsi. L'ottava crociata, l'ultima, 1263-1291, vide la definitiva caduta dei regni latini di Oriente. Alcune considerazioni sparse, sintetiche e per economia di tempo, conclusive sulle crociate. La prima cosa che diciamo è una domanda che si fanno i bambini, i figli quando gli dicano tra il loro mamma, chi ha cominciato per primo? Papà, chi ha cominciato per primo? Ce lo chiediamo anche noi, chi ha cominciato per primo? Pensate che 450 anni prima del 1096, cioè dell'indizione da parte di Papa Urbano della prima crociata, i musulmani iniziarono a fare la guerra all'Europa cristiana. Gerusalemme e i luoghi santi furono conquistati già nel 638, la morte di momento che fu del 632, a motivo anche della importanza che i musulmani danno alla città di Gerusalemme perché la ritengono in luogo di ascensione del profeta al settimo cielo, proprio a partire dal monte del Tempio dove adesso c'è la moschia di Al-Aqsa. Poi i musulmani tentarono ancora di invadere l'Europa passando dallo stretto di Gibilterra che si chiama così perché viene da Gebel al-Tariq che significa la montagna di Tariq, Tariq era il generale che salì sulla montagna e vide l'Europa, quindi vide anche che era facile raggiungere attraverso questo stretto, ma i musulmani a Poitiers furono fermati nel 732. Poi, questo sempre prima delle crociate, i musulmani occuparono la Sicilia, distrussero una delle quattro distruzioni di Monte Cassino fu loro, Roma visse sotto un continuo assedio, le mura leonine, che potete osservare oggi furono costruite da Leone IV proprio per difendere la città eterna dall'attacco di musulmani. Potremmo continuare con i saccheggi continui dei saraceni, gli arabi chiamati così dalla parola, diciamo, dalla parola araba sarkhi che significa abitanti del deserto. Quindi se c'è da chiedersi chi ha cominciato per primo, la risposta mi pare evidente. Una seconda considerazione, la colonizzazione dell'Occidente da parte del mondo arabo era ampiamente programmata. Noi possiamo dire che le crociate, che pure non sono un fenomeno di cui andare, come dire, noi cristiani orgogliosi, però l'hanno un po' rimandata, l'hanno rimandata almeno fino al 1453, data della caduta di Bisanzio, diciamo così, in mano ai turchi. Che ci fosse un disegno egemonico dell'Islam lo negano soltanto gli anticlericali, cioè quelli che vogliono utilizzare oggi l'Islam contro il cristianesimo. Davvero sarebbe una questione antistorica pensare che le crociate o altro fossero, diciamo, il contrario di tutto questo. E dopo la sconfitta di Lepanto del 1571 e quella di Vienna del 1683 non ci furono altri evidenti pubblici attacchi dell'Islam all'Occidente, se non attraverso il terrorismo, quello visibile a occhio nudo. Una terza cosa da dire, a livello sintetico, le crociate non furono affatto un fanatismo collettivo, anche se fenomeni di fanatismo ci furono. Una quarta cosa, le crociate aumentarono gli scambi commerciali, ma certo non è vero dire che arricchirono l'Occidente, infatti la nobiltà feudale, una volta che partì per le crociate, una volta ritornata in patria, trovò al suo posto la borghesia cittadina, quindi si impoverì proprio per fare le crociate, i pauperes rimasero tali, non si arricchirono dalle crociate, qualcuno si arricchì, pensiamo appunto a Venezia che saccheggiò Costantinopoli, ma ricordiamo anche che Innocenzo III di questo saccheggio di Costantinopoli fu esterrefatto e condannò profondamente la cosa. E diciamo che con le crociate per ora abbiamo finito. Grazie a tutti!